La brocca in argento, l'oggetto simbolo il più antico della collezione Torrini, databile tra la fine del 1600 e la metà del 1700, accoglie i visitatori al primo piano del Palazzo di Vicari a Scarperia, che ospita fino al 28 giugno l'esposizione di straordinari pezzi di orificeria dello storico marchio Torrini, raccolti in una mostra dal titolo Iacopus della Scarperia 1369, le radici del casato orafo dei Torrini. La mostra, realizzata in collaborazione con il Comune di Scarperia e San Piero e il Museo Torrini, vuole rendere omaggio alla storica orificeria di Firenze, ripercorrendone la secolare storia attraverso l'esposizione di manufatti di raffinata fattura e di altissimo pregio. Oltre alla brocca si può ammirare la spilla, settecentesca in diamanti, opera dell'antenato Francesco Torrini ed un altro gioiello di elegante gusto quale la pariure incommessa di pietra dura e montata in oro in stile neoclassico, composta da pendente, orecchini e con uno dei due originali bottoni ad impreziosire l'abbigliamento, che il presidente statunitense Ulisses Grant commissionò all'antenato di Cassa Torrini, Giocondo, e che fu realizzata in occasione dell'esposizione universale di Filadelfia del 1876, celebrativa del centenario della dichiarazione di indipendenza americana. L'esposizione inaugurata sabato 2 maggio nelle sale nobili affrescate del Palazzo dei Vicari è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del Comune di Scarperia, che già aveva messo a disposizione di ambienti in cui il regista Giuseppe Ferlito ha girato alcune scene del corto cinematografico dedicato al casato dei Torrini. Il filmato si è aggiudicato il primo premio del concorso indetto dalle imprese storiche italiane e premiato a Firenze al Cinemateatro Ode. Per Franco Torrini, discendente di Jacopus, una doppia soddisfazione quindi, prima il riconoscimento cinematografico e poi quello della terra dei suoi avi che gli ha voluto rendere questo straordinario omaggio. Le emozioni sono tantissime. Ritrovarsi a Palazzo dei Vicari a Scarperia vuol dire ricostruire le basi di un passato. Un passato che direi è ormai purtroppo remoto perché sono oltre 640 anni, ma qui è nato il signum della famiglia Torrini, il marchio di fabbrica che poi fu registrato nel 1369 a Firenze. Questa ricostruzione di un percorso è dovuta evidentemente alla sensibilità dei responsabili di Scarperia, iniziare dall'assessore alla cultura Marco Casati per poi terminare alla bellissima introduzione che ha fatto il sindaco Federico Ignesti con la collaborazione in particolare del Proloco Scarperia e degli uomini della Proloco. Abbiamo fatto un'operazione culturale che ha una base storica, che ha una proiezione nel futuro e questa è un'operazione sicuramente importante. Le splendide sale del Palazzo dei Vicari ospitano abitualmente convegni e mostre legate al territorio, ma anche eventi a carattere internazionale come per esempio la mostra dei ferri taglienti per cui Scarperia è famosa e che richiama visitatori e turisti da tutto il mondo. Quest'anno protagonista sarà il Giappone e le sue spade. E quest'anno presentiamo la mostra sulle katane giapponesi, una mostra particolare dove probabilmente sarà presente anche il maestro Yoshindo Yoshikara, che è un patrimonio vivente della Prefettura e della città di Tokyo, che farà una dimostrazione del Damasco e di come realizzano queste preziose spade. Sì, questo è l'evento più importante legato al discorso dei ferri taglienti qui a Scarperia.